ok allora billy quando ti faccio male fammi un segno che mi fermo ok 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 iniziamo dai coraggio billy abbia un po di pazienza ma non ti ho neanche messo gli attrezzi in bocca va bene va bene salve come va tutto bene grazie lei io ho un periodo veramente pieno tra scuola lavoro il ragazzo io ho conosciuto un ragazzo carino gentile dolce mi scusi ma lei qui non è dalla parrucchiera che le può raccontare tutta quanto la sua vita io le devo mettere questo coso in bocca quindi può stare zitta così lavoriamo e single vero se vuole posso ma il dentista ce l'avevo oggi o l'altro giorno controllo sul calendario cose da fare oggi giocare ad among us ok non è il dentista quello pronto salve doveva venire dal dentista due anni fa per togliere una carie ah è vero non si preoccupi mi è caduto il dente problema risolto ovvio il dente le è caduto perché si è cariato completamente oh ehi pupa mmm fai finta di nulla pupa cosa c'è perché una ragazza bella come te deve andare dal dentista per mettere l'apparecchio e tu per togliermi le carie ah lo vedo chiudi quella bocca di catrame salve allora come va l'apparecchio tutto bene eh non riesco a parlare cosa non riesco a parlare ripeta non riesco a parlare senta si tolga l'apparecchio che non capisco nulla oh finalmente non riesco a parlare no signorina non si tolga l'apparecchio ecco non l'ha messo per abbastanza tempo adesso dovremo fare un altro anno di terapia sei pronto billy certo io sono sempre pronto sono un gran figo che cosa mi deve fare ti devo trapanare il dente ah no 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 per favore mi lasci stare mi lasci stare billy ma è solo un trapanino no 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 io prima ho visto la sega elettrica no billy no 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 salve salve come va sono stanchissima almeno qui posso riposare signorina signorina le devo aprire la bocca guardi che non può dormire letteralmente signorina va bene allora dica a allora come sono andate queste vacanze ah interessante e con chi e avete preso un albergo o un appartamento ah per quanto tempo siete stati ma siete venuti in treno o in aereo ah ma lo vedi che c'ho un trapano in bocca come faccio a parlare mi opera o no va bene allora dica a mi scusi ho un afta in bocca farò un po fatica a a a apre di più la bocca non riesco a adesso gliela apro io bene quindi quanto le devo per questa sistemazione al dente va bene allora sono diecimila euro come come mi paga posso ripagarla con una nutella ciao timolivieri io sono l'onora e questa era chi sei dal dentista o tipi di persone dal dentista spero che il video vi sia piaciuto lasciate un bel mi piace e fatemi sapere chi siete voi dal dentista vi ricordo che potete acquistare le mie magliette sul nerdo verdoso vi lascio il link qua sotto in descrizione e niente fatemi sapere qua sotto nei commenti che nuovo video vorreste e noi ci rivediamo in un prossimo video un bacione dalla vostra patina rossa e nera ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.